Il nostro generale, Lucio Pellegrini, Andrea Joublin, Sergio Castellito, non sapevo di questa variazione francese, un noto attore francese che ci ha fatto l'onore di essere qui al 40esimo Torino Film Festival. Allora, io preferirei che qualcuno dalla sala iniziasse a fare domande, ma se volete posso iniziare io per rompere le ghiaccio, le glas, meglio così la mettiamo. Quindi se vedo delle mani alzate, se no vado, vado così. Allora, questa è una, possiamo definirla, poi decidete voi chi risponde, è una docu fiction. Per il semplice motivo banale, considerazione mia, ma io solo cose banali posso considerare, che è un misto tra un girato reale con attori e anche dell'uso di materiale di repertorio, di un momento molto particolare, una decina d'anni della nostra storia, della storia d'Italia, molto particolari, quella dell'inizio alla lotta del terrorismo da parte del generale della Chiesa. Se io direi che questo può essere un appello, io chiederei ai registi, Lucio, Andrea, di proseguire, poi magari a Sergio chiediamo qualcosa sulla, bellissima, permettimi Sergio, di considerarla così, interpretazione del tuo generale. Sanno dei momenti dove la tempistica dell'attore danno quel quid in più alla percezione dello spettatore. Grazie, ti ringrazio davvero. Prego. Chi vuole proseguire con un minimo di... Guarda, forse hai il microfono. Ok, adesso c'è. Ok, perfetto. Io gli faccio da folico. Non la consiglio. Sei venuto per questo. Nel senso che è una grossa produzione, però è una serie per cui i repertori sono usati come linguaggio, e in cui spesso abbiamo usato il linguaggio di allora per raccontare cose artificiali messe in scena. Quindi abbiamo deciso di usare un linguaggio che mescoli la realtà del tempo, così come era percepita, con qualcosa che, costruito da noi, è girato in quel modo. Quindi ci sono tante scene che sono girate in 16 mm, tante scene che sono girate con le telecamere, anche con il tubo catodico, per i fini anni 70, primi anni 80. Ci interessava provare a raccontare, ad avere un'adesione forte con la realtà, ma soprattutto con il percepito di allora, con quello che è diventato l'immaginario di quegli anni e che è stato vissuto attraverso certi materiali che poi sono stati riproposti nel tempo, dalla televisione o dagli altri media. Quindi è una serie che mescola un po' i linguaggi. No, io ho cambiato posto perché intanto mi do l'illusione di essere parte del cast, e proprio così mi metto seduto perché sono due ore che sono in piedi. Ecco, quindi una realizzazione così corposa, importante, faticosa, quindi l'uso di due registi serve anche a questo? Per cercare di dividere il compito in una realizzazione così importante? Sì, diciamo che io ho impostato un po' tutta la serie e ho girato cinque episodi, Andrea ha girato tre episodi, abbiamo lavorato insieme, se ci conoscevamo, ci conoscevamo, siamo amici, è stato tutto abbastanza semplice. Ecco, quello credo sia importante perché poi l'idea di due mani, di due menti che mettono mano allo stesso progetto potrebbe creare anche delle difficoltà, lo dico anche a Sergio che è regista anche da parte sua. Sì, sai cosa, perché Lucio ha iniziato, appunto ha impostato, ha iniziato e ha dato la struttura, si sente? Sì, ha avvicinato, così facciamo il tecnico del suono, va bene? Ha acceso, va bene, si ha acceso, si sente, sì. E poi io sono entrato successivamente. E quindi sì, quella è, secondo me è stata una discreta difficoltà quella, cioè riuscire a stabilire una, cioè non far vedere dove è la mano di uno e dove è la mano dell'altro, insomma, e quindi di questo io sono molto contento, devo dire. Sì, è quasi un miracolo direi, proprio. E questo che significa? Sintonia tra i due registi, accordi precedenti, lavoro oculato e certosino. C'è un grosso lavoro di preparazione, a priori. E quindi c'è una condivisione di un linguaggio, una condivisione di uno sguardo sui personaggi, e poi c'è una troupe che è la stessa. Quindi insomma, sostanzialmente abbiamo costruito qualcosa a priori, che poi dopo è stato portato avanti con una certa coerenza, spero. Con la grande difficoltà di fare un film storico, perché c'è un'ambientazione che ormai, diciamo, sono passati più di 40 anni. E quello credo sia una complicanza in più. Ma anche nel rendere i personaggi, Sergio, perché gli italiani sono diversi, in 40 anni sono cambiati. Anche se il generale della Chiesa, insomma. Dico, no, innanzitutto voglio dire questa cosa, loro hanno fatto un lavoro straordinario, Andrea e Lucio, anche grazie al fatto, una cosa del genere la puoi fare e puoi riuscire così bene, grazie al fatto che dietro c'è una buona, solida scrittura. Perché soltanto una buona, solida scrittura ti consente di cambiarla, in qualche misura, perché ti offre la possibilità di avere una gabbia dentro la quale ti puoi anche concedere la libertà di modificare. Diciamo che l'unico aspetto di commedia era che gli attori arrivavano sul set e dicevano chi c'è oggi, no? Chi è oggi? Chi è il regista oggi? Però a parte quello... Anzi, chi è il dottore, avrebbero detto una volta i macchinissi dell'epoca. È arrivato il dottore? Esatto, no, a proposito di Dalla Chiesa, di questo uomo, personaggio, di questo uomo, dico sempre la stessa cosa, sono uomini che non li fanno più, sono figure che antropologicamente oggi non potrebbero più esistere. Carlo Alberto Dalla Chiesa si porta presso la fine del secolo e si ingaggia, ingaggia tutta la sua vita all'interno del nuovo secolo attraversando una guerra, attraversando la resistenza, attraversando la ultima terribile guerra di piombo del terrorismo e finendo nella guerra di mafia. Una delle battute alle quali sono più affezionato è quando in uno degli incontri con Patrizio Pesci che è raccontato, devo dire, in maniera emotivamente molto bene nel film la relazione fra questi due nemici. Lui Dalla Chiesa dice ho vissuto tutta la vita in guerra, tutta la vita, tutta la vita, la seconda guerra mondiale, la resistenza, la guerra adesso ci siete voi e non sapeva che poi ci sarebbe stato anche altro. Quindi, insomma, un uomo di pace, un uomo di pace, un soldato, un uomo di pace indivisa, un uomo di pace indivisa, per cui questo è abbastanza... Mi faccio notare che dalla Chiesa viene ucciso nell'82, no? Sì. 40 anni fa. E questo è il quarantesimo festival di Torino. Sicché il festival di Torino è cominciato l'anno in cui c'è stato c'è stato l'attentato dalle Chiese. Beh, insomma, sono segni che si infilano. È stato giusto presentarlo qua. Ma questo, secondo me, dà anche il segno della storia. Eh, certo. L'Italia che... Ma tu hai detto prima una parola precisa, hai detto epoca, perché la cosa è impressionante, anagraficamente io l'ho vissuto, io stavo in un'accademia giovane studente dell'accademia in quegli anni terribile e così via. Però nella ricostruzione ti accorgi di... che questa ferita è ancora aperta profondamente. Ad esempio nella relazione con la sua famiglia, con i suoi figli e così via. E voglio sottolineare anche la bellissima disponibilità di Rita dalla Chiesa, con la quale ho passato un intero pomeriggio insieme a Lucio, ti ricordi? E ci ha raccontato di papà. Lei lo chiama papà. Però fa venire i brividi, sai? Fa venire i brividi, perché noi abbiamo una relazione con Carlo Alberto dalla Chiesa, e noi dimentichiamo che c'è tutta una zona che è la zona davvero danneggiata, direi, violentata, della vita di certe persone, che è l'intimità. No? Cioè ci sono dei figli che sono diventati orfani, poi fanno parte della storia, ma sono orfani. Eh, questo è un pochino. Credo che questo sia stato il sentimento più importante per me come attore nel tentare di mettere in scena l'anima, la natura, un uomo che, come dire, ancora una delle affermazioni, diciamo così, più, se vuoi, più romantiche, oggi sarebbe addirittura banali, potrebbero essere considerate in quest'epoca di cinismo e ironia, in quest'epoca di merda, di cinismo e ironia, banali. lui disse certe cose si fanno per continuare a guardare in faccia i propri figli. No? È retorica come affermazione, ma com'è pesante, com'è d'acciaio un'affermazione del genere, no? Non per guardare se stessi allo specchio, per guardare i propri figli e quindi per guardare un futuro. Sì, è retorica, ma insomma, sono quelle retoriche che poi difficilmente le puoi disincrostare, perché poi inevitabilmente sono quelle le essenze. C'è qualcuno che vuole fare domande? Prego. Allora una domanda all'interprete. Mi fate la cortesia di dire... Sì, Danilo, Lisa Morelli, Torino Cronaca qui. Grazie, grazie infinito. La responsabilità, Torino Cronaca qui, la responsabilità di interpretare una persona, appunto, e non un personaggio, avendo avuto anche i rapporti che lei ha citato e che il regista ci aveva detto appunto la disponibilità di questa famiglia nel raccontare aneddoti, ma poi raccontare un sentito. Per un attore di grande esperienza come lei, io immagino che comunque il peso fosse importante. Come ci si è avvicinato e quali ingredienti, anche quali trucchi ha usato per riuscire a calarsi in questo ruolo? Io mi avvicino sempre allo stesso modo, cioè cercando di eliminare l'esperienza, perché ogni film, ogni personaggio per un attore dovrebbe essere una pagina bianca e la cosa più rischiosa e anche dannosa è quella di limitarsi alla performance, che è questa parola terribile sulla quale sono stati perpetrati dei crimini, diciamo così, artistici, la performance. Invece io credo che un attore, augurandoci che poi abbia la coscienza di capirlo, a un certo punto della sua vita capisce che in fondo è un narratore. Un attore racconta una storia, la racconta attraverso la sua penna, che è il suo silenzio, che sono le parole che il regista gli dice di dire, il suo comportamento, i suoi silenzi e quant'altro. E quindi insomma questo è un po' l'attenzione. Poi qui c'è un dato fondamentale, qui c'è un uniforme, cioè tu sei il vestito che porti, qui l'abito fa il monaco, non c'è scampo, qui l'abito fa il monaco. Tant'è che ero, come dire, eravamo, io personalmente ero sempre molto colpito quando quel giorno dovevo vestire in borghese, no? Mi sentivo inadeguato, quasi imbarazzato per certi versi. dalla chiesa portò la sua uniforme pur da prefetto a Palermo, se la portò appresso, Rita andò a prendere la sciabola e il, come si dice, e la, 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 il doppio petto da prefetto. Insomma, l'uniforme ti fa recitare, trattino, raccontare. Altre domande? Prego. Buongiorno, Elaria Ravarino per il messaggero. Due domande, volevo capire come era stata la collaborazione con l'arma dei carabinieri, se ne avevate parlato, insomma, che tipo di rapporto c'era stato, e poi sul passaggio che abbiamo visto sulla P2. Ecco, quello è un passaggio molto delicato per tante ragioni, la ricostruzione come lo avete fatto, se ne avete parlato anche con la famiglia. Ecco, grazie. Beh, diciamo che c'è sempre stato un dialogo con l'arma dei carabinieri che ci ha appoggiato la serie e ci ha messo a disposizione una serie di luoghi reali in cui abbiamo girato la caserma di Torino effettivamente dove è ambientata la prima parte della storia effettivamente la stessa caserma dove ha vissuto dalla chiesa. Pietro Micca dove ha vissuto dalla chiesa, stesso discorso in altri luoghi, quindi abbiamo avuto una grossa disponibilità da parte loro e per fortuna perché questo andava un po' nella direzione di ricreare un realismo che era un po' la scelta che raccontavo prima, di trovare il maggior grado possibile di verità in quello che cercavamo di trasmettere. Sulla P2 abbiamo lavorato con la famiglia, abbiamo lavorato con i nostri consulenti storici, la storia non finisce lì, nel senso che qua voi avete visto il momento in cui dalla chiesa viene in qualche modo invitato a firmare una domanda di ingresso per la loggia e la cosa avrà una serie di ricadute più avanti dentro la storia, effettivamente sono fatti che effettivamente sono accaduti verso la diciamo zona nei primi anni 80 quando è stato scoperto sono state scoperte e diffuse le liste e questo ha causato una serie di problematiche dalla chiesa molto serie e è anche una delle ragioni per cui poi in qualche modo è stato formalmente almeno allontanato dall'arma anche se poi in realtà le ragioni sembriali sono alte e quindi è una linea di storia che è stata approfondita e raccontata ci interessava provare a raccontare questo personaggio anche con le sue opacità che sono pochissime che però ci sono e fanno parte di un momento della storia d'Italia molto confuso e complesso anche perché credo di non sbagliare se dico che quell'essere caduto nella seduzione diciamo così melmosa della roba della V2 è accaduto in un momento in cui lui si sentiva molto solo molto isolato dove i suoi forse più grossi nemici erano all'interno dell'arma insomma quindi le cose vanno sempre contestualizzate piccolo era stato demanzionato esatto era stato messo in un ufficetto e così via e poi sottolineiamo anche il fatto che la famiglia non ha negato la possibilità di raccontare anche questo no no la famiglia è stata con cui abbiamo lavorato hanno letto i copioni e visto la prima puntata che non sono quelle che avete visto voi e comunque diciamo loro sono erano assolutamente allineati con noi nella decisione di provare a raccontare in questo modo un personaggio che era anche un essere umano non soltanto un emblema allo stesso tempo la cosa interessante è la storia da un punto di vista di chi la racconta che come avete visto è una storia che inizia come un'investigazione che mette in mostra la grande capacità di questo personaggio di capire chi è il suo nemico di provare a combatterlo e mano a mano che la storia va avanti il nemico cambia forma nel senso che le brigate rosse si trasformano arrivano le seconde e terze generazioni che sono molto diverse delle prime ma allo stesso tempo il nemico se lo ritrova dentro l'arma e lo ritrova nella politica diventa un personaggio che diventa più la guerra diventa importante più il personaggio lo resta solo a combattere una battaglia che alla fine diventa quasi una battaglia donchisciottesca contro un nemico troppo più grande di lui prego prego grazie sono Fabrizio di Vidi del Corriere della Sera Torino volevo chiedere a Sergio Castellitto c'è una scena ricollegandomi al discorso della divisa nella puntata che abbiamo visto probabilmente l'unica sequenza in cui lei è in borghese è quando muore Dora forse è una scelta per umanizzare il momento questa è la prima domanda se invece è casuale perché era un pranzo questo è un altro discorso ma in ogni caso la domanda è visto che quella parte è la più privata dalla chiesa come è stata ricostruita su quale basi su testimonianze lettere o quant'altro grazie tutto credo che sia stato ditemi se sbaglio ma credo che sia stato tutto vagliato con la famiglia quindi non c'è non c'è nessun romanzamento diciamo così della verità sì c'è una narrazione filmica ma insomma tutto ciò che voi vedete sostanzialmente è accaduto se non è accaduto in termini di episodi è accaduto in termini psichici è accaduto in termini emotivi io non so se quando Carlo Alberto dalla chiesa si è accorto che la moglie era morta ha dato un cazzotto al muro però probabilmente no però ci sono delle cose che Rita mi ha raccontato e ci ha raccontato il fatto di non voler essere per esempio toccato di non voler essere che sono che per me sono gli elementi straordinari poi del film cioè tutta la zona della ricostruzione storica secondo me è eccellente ma lo è ancor più la narrazione interiore intima cioè questa era una famiglia che viveva in un fine pena mai in un carcere cioè la figlia si è sposata in caserma con le guardie del corpo con i carabinieri intorno che controllano lo stesso funerale avete visto lo stesso funerale la moglie comunque è avvenuto in un hangar della caserma capito cioè dove quindi insomma noi queste cose insomma risaltano relativamente cioè però sono voglio dire quando dalla chiesa va a trovare pece in carcere sono due compagni di cella due tragici compagni di cella e due predestinati a una fine terribile entrambi insomma quello per esempio è un altro elemento che io invito veramente a sottolineare perché è straordinaria l'intuizione iniziale cioè dalla chiesa capisce che per combattere e e abbattere tutto quel quel fenomeno terribile che è stato il terrorismo e le brigate rosse e quant'altro bisognava paradossalmente riconsegnare anche una dignità di nemico una dignità di avversario e quindi lui disse in alcune interviste sono dei soldati si comportano come soldati e noi come soldati li stiamo combattendo insomma la capacità di utilizzare anche l'indagine psicologica è stata una sua innovazione in qualche modo non si tratta soltanto poi uno ricorda l'irruzione nel covo e quant'altro ma era una guerra era una guerra l'ultima domanda salve Caprara la stampa io volevo chiedere appunto a Sergio Castellitto e al regista Pellegrini che significato ha adesso oggi raccontare questa storia nel contesto politico che stiamo vivendo oggi in cui sembra che tutte le scelte anche quelle artistiche anche quelle abbiano insomma un significato marcatamente politico ecco volevo sapere oggi che significato ha per voi perché era importante raccontarla proprio oggi adesso ma io penso che 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 una grande storia italiana che non è stata ancora raccontata nel senso che sono stati esistono molte narrazioni sul periodo quasi sempre molto specifiche lo stesso lavoro straordinario che ha fatto Marco Bellocchio ha parlato di quei giorni in cui è avvenuto il rapimento moro ma la storia messa in fila dalle prime manifestazioni dei primi rapimenti simbolici che le Brigate Rosse hanno fatto qua a Torino e a Milano fino alla quando arriviamo fino alla diciamo al rapimento Peci alla vendete trasversali quasi di stampo mafioso che i brigatisti fecero sul fratello di Patrizio Peci per me rappresenta un'occasione di raccontare un pezzo di storia italiana in modo assolutamente lineare che non è stata ancora raccontata e che penso possa essere importante perché è veramente la base su cui si costruisce poi quello che è diventato il paese oggi allo stesso tempo non credo non sono abbastanza disinteressato al significato politico che può avere oggi questa storia nel senso che comunque si parla di un tempo passato di valori e personaggi che oggi in qualche modo non appartengono più a questa terra anche se sicuramente aprono dibattiti anche oggi in qualche modo ma è il valore di testimonianza di memoria si parla sempre tanto di memoria questa incapacità che abbiamo tutti di conservare il ricordo di quella che è stata la nostra storia passata o passata prossima io ho un figlio di 15 anni al quale ho detto vado a fare un film su Dalla Chiesa e lui mi ha detto chi è è inevitabile e lì ho capito che era giusto farlo è molto semplice questa cosa qua è fondamentale è proprio un pezzo di storia mai raccontata che va raccontata in qualche modo sui libri di storia non si studia perché il programma finisce prima non si studia ancora sì esatto questa è una delle cose più paradossate del resto quando eravamo ragazzi noi non si studiava nemmeno la seconda guerra mondiale non si studiava neanche la seconda guerra è finita prima ma infatti ci auguriamo che possa essere anche proiettato nelle scuole grazie grazie a tutti grazie ai registi grazie a Sergio Castellitto e grazie a Simone Ercolani perché bisogna sempre dire questo perché io personalmente ho conosciuto molti bravi produttori ma anche molti pessimi produttori e quindi onore a lei che ha prodotto questa cosa con mille difficoltà ma comunque consentendoci di raccontare questo film come volevamo raccontarlo grazie Simona grazie Simona grazie a tutti